Musica Gentili spettatori buongiorno, bentrovati ad una nuova edizione del TG Mattina. Quest'oggi è mercoledì 2 novembre 2022, ricorre la commemorazione dei defunti. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo con la stampa, nelle pagine dedicate al territorio. Cari professori, non vi lasceremo soli l'abbraccio del mondo scolastico ai genitori di Ruben, insegnanti all'Antonelli e al Bonfantini. Il ragazzo si è suicidato sabato notte lanciandosi da una finestra dell'ospedale maggiore di Novara. Torniamo subito sull'argomento, l'ESA, la regione, stanze a mezzo milione per rifare lungo lago e nuovi attracchi. E il violinista, made in VCO, a Verbania in sala, venerdì il film di Mirko Zullo, il dramma di Ruben. Professore, adesso vi aiutiamo noi, l'abbraccio di tutto il mondo scolastico ai genitori che insegnano al liceo Antonelli, all'Agrario Bonfantini. Gli studenti, profondamente turbati dalla morte del loro coetaneo, dicono parleremo di lui e lo ricorderemo. È stato ricordato anche dai tifosi del Novara e quelli dell'Inter. Sarà per sempre con noi allo stadio, anche il presidente Azzurro Ferranti si unisce al Cordoglio. Era un giovane che amava la squadra della città, siamo vicini al dolore della famiglia. E' stata avviata una verifica sulle misure di sicurezza da parte del direttore generale del Maggiore, Gianfranco Zullian. Sulle strade più polizia. La denuncia di Siulpesap, pochi agenti in servizio e parco auto troppo datato. 40 il numero complessivo di poliziotti della stradale Novara, altre 16 sono a Darona. 140 gli agenti della stradale in servizio in provincia, ma 84 sono dedicati alle autostrade. Intanto continua la campagna sulle sicurezza lanciata dal quotidiano La Stampa con le immagini inviate dai lettori. Il divieto in via Belletti non ferma i tir, l'alternativa è restare intrappolati. La segnalazione di un camionista dopo l'ordinanza che limita il transito sul ponte sul terdoppio in ingresso a Novara. Cameri stop al restyling della piazza e colpa dell'aumento dei costi. L'amministrazione utilizzerà i fondi per iniziative di risparmio energetico. Poi il comune chieda RFI un incontro sulle barriere, appello dei residenti dei quartieri di Novara che si oppongono al piano. E poi Briona al maniero di pro-lavori con i fondi europei, i progetti della fondazione Universica. Ex Liola il Consiglio trasforma una parte in area commerciale a Borgomanero e la zona dove era stato aperto il centro vaccinale. In aula opposizioni astenute sul voto non faccia concorrenza al centro. L'azienda di moda era stata creata nel 1958 e aveva cessato le attività nel 2017. Addio a Don Elio Agazzone, 73 anni, parroco per 26 anni della comunità di Fara, il funerale domani mattina. E poi il turismo del vino si presenta in rapporto il 12 novembre a Sizzano. Omaggio agli F104 assemblati a Cameri con gli orologi creati a sesto calende da un brand lombardo. Le modifiche del governo al piano delle Trivelle agitano Carpignano-Sesia, con altri 21 comuni potrebbe tornare davanti al Tar. Ci spostiamo nel VCO, Verbania, il no del sindaco all'aumento di stipendio blocca anche la provincia. Silvia Marchionini percepisce 2.200 euro netti al mese. Le nuove indennità previste dalla legge raggiungeranno il massimo nel 2024. A Cannobbio Cirio visita una stalla, promette sostegno antilupo, è un problema di tutto il Piemonte. E poi a Domodossola dopo dieci mesi c'è il gestore del nuovo bar in piazza Ex Carceri davanti al municipio. Il sentiero Italia della CAI sulle orme della Cammina Italia, escursionismo in forte crescita anche nel Verbano Cuseossola. Mensa delle elementari, sovraffollata, ripristinare i due turni a Stresa, però c'è l'SOS dell'opposizione. Poi Le Rive, un numero dedicato al Monterose e al Lago d'Orta, a meno la presentazione della rivista bimestrale. Le trecce della solidarietà per le donne in lotta col tumore, Omenia, raccolta di capelli per parrucche promossa dalla Lilt VCO. Arriva in Germania la creatività di Rodari, nel 2023 esibizioni di nuovo in presenza, premiazioni del concorso insieme per suonare e cantare. Il flash mob della fantasia, ponte di pace per l'Europa, Omenia, bilancio del festival di letteratura per ragazzi. Poi altri appuntamenti, la pianista mancata e le partite IVA al lavoro sul palco di Gozzano. L'attrice e autrice Maria Angela Martino alla SOSMI, venerdì alle 21 per la stagione Marchio di Fabrica. Poi il teatro Pellico di Trecate, che cresce con la platea di ogni età, spaziando dal cabaret ai film. Venerdì il Via con Leonardo Manera e Claudia Penoni in Vita Polonia. Saranno dieci gli appuntamenti nella sala, diretta da Giancarlo Stellin. Arriva in sala il violinista, primo film 100% made in VCO, proiezione venerdì al maggiore di Verbania, tra gli attori Edoardo Romano e Davide Mengacci. Il verbanese Cristian Soldi lancia un singolo al mese, dice mi adatto alle esigenze del mercato. Poi lo sport, Igor chiede strada a Bustar Sizio, l'obiettivo è riportarsi al comando. Coach Lavarini confermerà il sestetto che ha surclassato Scandici. Ancora out Polter, stasera alle 20.30, derby del Dicino per la quarta giornata di A1. Il Novara scopre Patrizio Masini, 21 anni, gioco dove vuole Cevoli, sono qui per imparare. Il centrocampista azzurro è una vera rivelazione, domenica un gol da tre punti che ha affondato il San Giuliano City. Il Baveno torna a Cossato dopo 70 minuti per la rimonta in calcio eccellenza, si recupera la gara interrotta e poi primato i numeri da record, il Boulé squadra da battere nel calcio promozione. Il Bellinzago è dunque protagonista. In basket serie B il College torna a vincere a Casale dopo sette mesi di digiuno. Ci siamo usciti dall'incubo e poi il tennis in serie A2, pari del Piazzano Colpavia. Per i playoff la strada è in salita. Siamo alla stampa. Rave, una legge liberticida, così le opposizioni che insorgono. Forza Italia a Meloni dice troppi sei anni di carcere, ma la Premier dice andiamo avanti. Il ministro Calderone cancella intanto i contratti con i navigator, non rinnoviamo. E Numisma dice le bollette sono su solo del 5% e non del 70%. Poi due personaggi molto amati dal pubblico, Julia Roberts che dice fu Martin Luther King a pagare il mio parto e Bono Vox con l'autobiografia del cantante appunto degli U2. Continua la guerra in Ucraina, minacce di atomica sul Donbass, Mosca alza il tiro e Putin minaccia anche Londra. La situazione resta drammatica e tra l'altro attualmente l'Iran fornirà 200 droni alla Russia per colpire Kiev. Poi ancora venti di guerra, ne avevamo parlato già ieri con le esercitazioni militari che erano andate avanti tra Corea del Nord e Corea del Sud insieme agli Stati Uniti. Oggi ovviamente la risposta, sono stati lanciati tre missili in risposta a Pyongyang da parte della Corea del Sud, ma anche la Corea del Nord questa notte ha lanciato altri missili che sono arrivati vicinissimi alle coste della Corea del Sud. Per quanto riguarda, tra l'altro vedremo sulla prima del Corriere della Sera il problema della leadership del Brasile, lo vediamo, il Brasile è bloccato, Bolsonaro sconfitto ma non lo ammette. Ci sono proteste dei camionisti in 22 stati che appoggiano dunque Bolsonaro che è stato sconfitto alle urne per pochi voti e dunque manca la benzina in Brasile e pare che si vada verso un blocco del paese. Poi la nostra politica, fermeremo solo i rave, l'opposizione attacca la nuova legge, Bonaccini sono per la legalità e Salvini dice indietro non si torna, piante dosi, nessuna estensione del blocco alle manifestazioni in piazza e Letta accusa è una norma contro la libertà di riunirsi. Poi una brutta storia da Treviso a piedi verso casa dopo una lite con il fidanzato, aveva 22 anni e è stata travolta da un automobilista ubriaco, suo coetaneo, negli ultimi passi di Miriam. E poi in testata Champions, Inter e Napoli battute ma vanno agli ottavi. Per quanto riguarda gli economici, Italia Oggi le SRL semplificate online. Dal 5 novembre entra in vigore il nuovo statuto standard che prevede la Costituzione in videoconferenza attraverso la piattaforma del Consiglio Nazionale del Notariato. e poi il sole 24 ore, Ita, Lufthansa è pronta a rientrare dopo lo stop di Giorgetti all'esclusiva con Certares. Air France prende atto e la compagnia tedesca dice siamo interessati in caso di vera privatizzazione. Il maxiprocesso in Sicilia per la mafia dei Nebro di 91 condanne per le frodi all'Unione Europea è un segnale chiaro, basta omertà sia le denunce e chi parla è Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebro di che ha dato avvio a tutta l'inchiesta. In chiusura andiamo a vedere la situazione del meteo, quest'oggi cielo nuvoloso tutto il giorno, temperatura minima di 9 gradi, temperatura massima 19 gradi, domani cielo nuvoloso con pioggia nella seconda parte della giornata, temperatura minima invariata a 10 gradi, temperatura massima che passerà a 16 gradi. E' tutto, vi auguro una buona giornata, vi aspetto domani sempre con il TG Mattina a partire dalle 7, arrivederci.